i gioielli sono irraggiungibili allora prenderò il prossimo tesoro reale più prezioso la principessa un miracolo! l'universo ha ascoltato le mie preghiere! mi ha dato una bambina! cosa? dov'è mia figlia? sveglia principino! è giorno! alzati è giorno Leo! ti ho portato la colazione a letto! cosa? tutto questo zucchero e lattosio! che schifo! ecco i soldi! compresi la colazione che vuoi! grazie mamma! venite alla svendita del mio garage! ma che cosa vuoi? è fatta a mano! vostra ammestà! vi piace qualcosa? dov'è preso quel ciondolo ragazza? non saprei! ce l'ho da quando sono nata! è della mia madre biologica che non ho mai conosciuto! figlia mia! ti ho trovata! no grazie! oh scusa posso spiegarti! questo ciondolo è della nostra famiglia reale! sono io la tua madre biologica! sei stata rapita dalla culla! ma ora sei tornata! la mia principessa! finalmente siamo insieme di nuovo! andiamo! aspetta! devo fare le valigie! ok sono pronta! ok sono pronta! andiamo! figlio! guarda chi è tornata! è tua sorella! cosa? ah fratella! ma puzza! non fare lo scortese mio! è una riunione di famiglia! abbracciala! va bene mamma! avere un fratello è stato sempre il mio sogno! figliola questo è il tuo bagno! puoi lavarti e coccolarti qui! che cosa è questa cosa? ma e che ci faccio? ti faccio vedere tesoro! è una doccia! salvatemi! genna dammi una mano! come faccio a farle fare un bagno? penso di sapere come! beh non è un grosso problema giusto? è divertente! ora passiamo ai capelli! cominciamo con una spazzolata! non mi va! genna! non ce la faccio da sola! devo riuscirci! tira! piano! non è successo niente! ora la sistemiamo e sarà ancora meglio di prima! grazie mille! beh sta molto meglio! ora passiamo al trucco! bellissima! e ora ci andiamo a cambiare! sei pronta? questo mi piace un sacco! oh no! le principesse non si vestono così! perché? è comodo! ci posso andare anche a cavallo! e cosa ne pensi di questo? wow! questo modello è proprio... aspetta! non penso proprio! che ne dici di questo? è perfetto! dieci su dieci! si piace anche a me! grazie mamma! mamma? che cravatta mi metto? pesce marcia? o un nastro adesivo? tesoro! tesoro, per caso ti è venuta la febbre? non è divertente! cambiati! tu e i tuoi stupidi scherzi! tesoro! che fai? no tesoro! le principesse non si lavano i vestiti in piscina! ho trovato una lumaca! e sorella! già che ci sei potresti lavarmi il vestito della domenica! grazie! no! basta! lascia il bucato! le principesse non fanno così! non devi lavare le tue cose in piscina! vieni! lascia stare il tuo orecchio, Kaya! miss grace! insegnerebbe a Kaya a comportarsi come una vera principessa? ma certo, vostra maestà! ciao Kaya! Kaya, fai tutto quello che ti dice! iniziamo con la postura! metti in testa i libri e cammina! il mio collo non è pronto per questo! andiamo principessa, su! la chiamerò la camminata alla Quasimodo! spalle indietro e muovi i fianchi! ok, capito! aia! ho sbattuto i fianchi sul pavimento! complimenti principessa Kaya! ma sei caduta! ce l'hai fatta! posso usare il bagno? sono una brillante insegnante! è sbocciata! no! c'è solo un modo qui! niente, ma sentili! il silenzio! guardami! inchino! senza speranza! ce la farò mai! voglio ospiti! lasciate che vi presenti i miei eredi! il principe Lio e la principessa Kaya! levati del palco! cialcrona! il principe Lio! dai, fate un applauso! sono nato con la spada in mano! ho partecipato a grandi battaglie e ho uccisi i nemici con un sol colpo! che crudeltà! bravo, principe! sì, bravo! ora basta! scendi dal palco! levati! grazie per l'attenzione! il mio cilindro! ma è inaccettabile! è un oltraggio! non si preoccupi! ora rimediamo! su, Kaya, sali! ciao a tutti! vi canterò una canzone! la mia ragazza! dai! ma il tesoro! mamma ti fa un bel video! let it go! let it go! ciao, sorella! hai già deciso che cosa diventerete il ricevimento reale? io ho dei suggerimenti pronti! scegli una carta? che cosa scegli? questo! sei sicuro? così si vestono i reali! ma è ok! tra poco vedrete mia figlia la principessa Kaya! tesoro, ma che ti sei messa? lo sapevo che non dovevo darti retta, Leo! sì, ora basta! ecco, mettiti questa! meglio! guardatela! sembra una pupazza! sono stata ovegliata davanti a tutti! basta ridere! tesoro! questo non è il mio posto! tesoro! non piangere! guarda! sono vestita anch'io come te! e nessuno potrà ridere della regina! io ti adoro! anch'io ti voglio bene! dopo tutto siamo una famiglia! pace! svendiamo il tesoro reale! venite! grandi sconti! corona al 50%! questa corona mi piace! ti do 50 centesimi! dammelo! è mia! oddio! abbiamo toccato il fondo! eccomi qui! pessimo atterraggio! tesoro, eccomi! andiamo a casa! ma chi è questo matto? lo conosci? sì, il re degli elfi! vostro padre! mi scusi? la Chiara non è più in vendita! ecco di tuoi 50 centesimi! sono tornata una regina! che è successo tesoro? siamo stati buttati fuori dal castello! ma ora sarò di nuovo la regina! aspettatemi! no! sono io l'unico figlio principe della famiglia! aspettatemi! è io! mi avete lasciato! allora, vediamo cosa c'è rimasto di valore! l'unico figlio di valore! l'unico figlio di valore! trono! sì, portalo di sopra! corona! ottimo! mettilo sulla capelliera! le coroni sono la mia passione! l'unico figlio di valore! l'unico figlio di valore! lasciami la mia corona! e chiama Kaya! Kaya, entra tesoro! questo è il luogo fabergio della nostra famiglia! portalo di sopra! l'unico figlio di valore! l'unico figlio di valore! dove sei? eccomi mamma! oh, entra tesoro! è bello essere di nuovo in casa! anche io voglio entrare a casa! fammi passare! chi è Leo? oh, niente mamma! devo trovare qualcosa per sostituire Kaya! ecco qua! strajati Kaya! ti copriremo con una coperta! ragazzi, ancora dormite? su, svegliatevi subito! la colazione è pronta! ah, mamma! guarda, c'è un articolo sulle tendenze reali! leggilo! cosa? le parrucche sono tornate di moda! è interessante! ecco fatto! manca ancora qualcosa! esatto! la testa! sì, può funzionare! lascemi in pace! sicuramente ti serviranno gli occhi, Kaya! ora non si può sbagliare! a cavolo la testa! Leo! ma come hai potuto? ma cosa è successo? tesoro fa qualcosa! dobbiamo trovare la principessa scomparsa! una moneta! un'altra! adoro le monete! wow! cosa? a rozzecchino! che partula! che partula! presa! no! ma! dove sono? in prigione! fatemi scena! aah! non lo puliscono da un secolo! c'è solo polvere a ragnatele! cosa c'è? cosa c'è? wow! una bella scatola! so io cosa farci! ecco le delle altre! ma le torri principali sono pronte! ma del foglio di cartone! meno male! ritagliamo! e voilà! la torre ha anche i merli! con del nastro puoi fissare e decorare! oh sì! che c'è in questo baule? un portone! e anche la parte sopra! ovviamente una bandiera! ecco il mio castello! questo tappeto è morbidissimo! mi piace! diamo un'occhiata al baule! ora ho un tavolo! e delle lampade! e sorprendentemente il baule è diventato un ottimo letto! non sono mai stata così contenta! la principessa è scomparsa! non c'è speranza! questi li mettiamo qua! dove pensi di andare? quello è il secchio della plastica! è quello per la carta! allora! dividi la spazzatura! ok ragione! carta con la carta! ottimo lavoro! ora puoi andare! ora puoi andare! sempre a disturbarmi durante il lavoro! un altro cuscino e siamo pronti per una bella favola! il principe baciò la principessa e vissero per sempre felici e contenti! ma dove sono finito? wow! una vera principessa! accidente! sembra pazza! ma devo svegliarla! non ce la faccio a baciarla! ora sei più divertente! principessa, questo ti piacerà! un bel selfie! cosa? fattene! mi stavo facendo un busionino! non vedi! cercherò in ogni stanza del castello! qual è la chiave della torre? Jenna! ci penso io! non ti preoccupare non darti tutto questo disturbo! molto strano! il pranzo è pronto! sei qui? dai, vieni fuori! non ti nascondere più! dov'è? qui non c'è! oh no! la principessa è scappata! ora è finita per me! mio dio! mi cederanno dietro le sparre! che succede? me ne vado! ma chi urlava? del porridge! avevo proprio fame! le sbarre sono aperte! prendo giusto un paio di cose e possiamo andare! dobbiamo ritrovarla! dove sono i manifesti? ecco le! ecco le! speriamo che servano! ma chi ha fatto questo casino? avevo appena pulito! oh cavolo! ehi! ma dove vai? aspetta! quella sono io! mi stanno cercando! finalmente! devo risistemare i capelli o nessuno mi riconoscerà! ottimo! guarda! sono io! mi hai trovato! dai! andiamo! eh? questo cos'è? il mio selfie è rovinato! guarda! sono io! sono salva! chi vuole un milione di dollari? e datemi un po' d'attenzione! sono io! ehi! lava quella faccia da qui! sciò! oh! il mio poster! ma quello non è! sì! sì! sarò io! un serpente! sulla spalla! oh salute! tesoro! perché non la prendi sul serio? stiamo facendo i provini per la nuova Kaia! provati queste piccola! mi ricordo che le unie di Kaia sporgevano! no! non è lei! avanti! ecco! prenditi un po' di dolce! mmm! è squisito! no! Kaia non avrebbe mai usato le posate! la mia Kaia era una sciatta maialina! non sei lei! addio! questo mondo è pieno di impostori! il tesoro! ammettilo! non sei una principessa! e va bene! avete vinto! non me ne frega niente! sono io! la vera Kaia! ora basta! siete tutti degli imbroglioni! non fate altro che spezzare il cuore dei miei! impostore! aspetta! ho un ciondolo di famiglia! sono la vera Kaia! vedete? oh giusto tesoro! è davvero lei! sono veramente felice! l'intera famiglia è di nuovo riunita! figliolo! tutto quello che vedi un giorno sarà tuo! ehi là! sarà anche mio lo sai! cosa? mamma papà! fate qualcosa! ma che c'è? Kaia ha una fervida immaginazione! un sovrano creativo è quello che serve al nostro regno! tesoro! noi partiamo per la conferenza leale! ora sei tu al comando! ecco la lista delle cose da fare per oggi! e tieni d'occhio a tua sorella! ok ciao! tranquilli! sorella! oggi è il tuo giorno fortunato! ecco la tua lista delle cose da fare! inizia subito! io sarò di sopra! è tutto per me questo! ok! sono uno straccio! ehi là! sono la tua fata madrina! vuoi andare al ballo? guarda qui! stavo pulendo fino a un secondo fa! volevo solo essere d'aiuto! ora te ne do io un po' di... fantastico! mamma papà! ho finito con le cose sulla lista! oh bravo ragazzo! sei proprio affidabile! un vero principe! ovviamente ci serve aiuto! fatta madrina! eccomi qua! i miei figli hanno bisogno di aiuto per l'incoronazione! e allora levati! via! ora tocca a me dare gli ordini in questo posto! ora imparerete come ci si inchina! lio? ma è un incubo! caia avanti! wow! sei bravissima! cosa? ma com'è possibile? la 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 la! uh! spazzatura fresca! non ce la faccio! calma! sono bellissima! ora impariamo a suonare l'inno nazionale del nostro regno! ottimo caia! hai proprio del talento! adoro i pop it! la mia studentessa preferita! lezione di matematica? qual è la soluzione all'equazione? penso di averla già mista! quelle pane! l'ho visto prima io! il cestino è mio però! ridammelo! non te la do! aspetta! fammi riflettere! visto che siamo in due una sola pagnotta e... la divideremo! così ognuno avrà un po' di pane! buon appetito amico! conosco la risposta! è dieci! come fa a sapere tutto? ottimo caia! sei uno studente modello! e tu sei uno sfaticato lio! su sbrigatevi! su sbrigatevi! ora scoppia! sembra che qualcuno abbia esagerato con i brownies! basta! niente più spuntini a palazzo! non si entra! perché? nuove regole! ma sono il principe! come osi tu! ci farò cacciare! sempre no! ma come faccio a vivere senza dolce adesso? che succede adesso? non ci fa entrare! fammiti dire una parola! guarda questo orologio! funziona! entrate! fermi! e se proviamo? smettetela di ridere! mi tengo d'occhio, sai! salve! volevamo fare un giro al bambino! oh! che carino! posso tenerlo! non ci avevo pensato! ma come avete osato? prendi questo! è questo! e là! vostra maestà! ma queste cose non sono adatte personalità del vostro ceto! d'altra parte, mi è venuto in mente un piano meraviglioso! prendiamo un po' di magia e proviamo! e allora? mi hai messo ad assolto i vestiti! e questo serve il piano meraviglioso! datti un'occhiata! ma assurdo! sembro proprio la regina madre! a nessuno importa dei diamanti! molto meglio lecca lecca! oh! vostra maestà! entrate! chi diavolo è questa? un impostore! sono io la vera regina! è oltra giuso! guardia! la arresti subito! come osi bibitare di me? ti farà tagliare la testa! un po' di palline magiche risolverai! è stata la questione! ah ah! ciao! scema! ti prendo! che simpatica! ehi! fermatevi! non abbiamo niente! vedi? ok! vediamo se è vero! certo! non avete niente! vero? hai detto che avrebbe funzionato! ora potete andare! oh! dobbiamo andare! abbiamo un impegno! a quanto pare i gemelli questa volta vogliono far sul serio e contrabbandare dolci! ci pensate anche tu? ci serve un selfie! sorridi! 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 no! per favore! tutte le idee fatele andare via! sarò più dolce e gentile! non ce la faccio più a ridere! andiamoci ne via da qui! cosa? sono spariti! accidenti! grazie dei! Leo! Leo! guarda! facciamo uscire i tatuaggi! vado io per prima! noio! dai! dai tocca a me! ma siete matti? la regina mi taglierà la testa! ma sono veri! calmati! sono di cioccolato! tocca a me! dai Leo! riempiamo la macchinetta! ecco fatto! non è fichissimo! wow! devo assaggiarlo! dalleccarsi i baffi! yo! bella! wow! alla grande! abbiamo anche i tatuaggi uguali! oddio! non ce la faccio più! neanche io! matti qua sorella! ehi! cos'è questo? guardi! su Nutella! guarda! è entrato Kenny West! sì! certo! ci credo! corri! tada! una torta intera! wow! e come la tagliamo? non saprei! lo so io! wow! prendiamo in prestito l'ascia della guardia! la tagliamo e gliela ridiamo subito! ah! facciamolo! tira forte e corri! siete sempre voi! sì! andiamoci dentro! aha! lei! nascondiamoci! passiamo all'attacco! prendi questo! ah! 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 dobbiamo tagliarlo! prendi Kaya! non lo prendi! vai! aha! ne ho abbastanza di voi! vi distruggo! oh! no! per favore! abbia pietà di me! la imploro! ti nomino cavaliero dell'ordine più alto del nostro regno! wow! grazie mille! sono divagrita! il vestito adesso mi sta! vedi! possiamo di nuovo mangiare caramelle! vedrà il principe chi vedrà e si innamorerà subito! fate strada alla famiglia reale? non ho alcuna possibilità! ah! 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 che succede? oddio! e questo chi è? jenna qual è il problema? è un pokemon! oddio! e se la stampa lo scopre? dai vieni qui attenta sediti che cosa facciamo con lei? non saprei svegliati! dove sono? benvenuta nel mio palazzo ora è una nuova famiglia sono la tua mamma addettiva wow! che figo! oh! chiudore! dammela! serve più a me! viva in un palazzo! è ora che ti fai un bel bagno no! oddio! oddio l'acqua! smettila di frignare devi essere pulita wow! un bagno di pop corn! ora sì che ci siamo! dobbiamo lavare questo pokemon prima possibile perché devo fare io sempre il lavoro sporco pop corn! buon appetito a tutti! pranzo! posso mangiarmi un cavallo? ciao mamma tesoro guardati tieni la schiena dritta prendi una ciambella un attimo sulla bocca e per sempre sui fianchi devi mantenerti in forma ecco prenditi un po' di frutta un solo chicco d'uva e le tue maniere voglio dire c'è coltello e forchetta ma mamma guarda quel pokemon buonissimo che altro posso mangiarmi? oh tesoro mangia tutto